All'angolo rosso, Sternativo Antonio della Second Out. 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 sulla guardia dentro 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 così vai Antonio Antonio sulle braccia Antonio dentro ai ginocchia ginocchia vai Tony fine della prima ripresa la prima ripresa fuori secondi dai Tony dai 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 vai 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 Tonio! Vai Tonio! Col destro! 2! Braccia! Vai Tonio! Vai Tonio! dentro tonio dentro tonio 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 vai dentro tu capito dai sull'alto dai 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 vai toni vai sei su 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 Antonio su le braccia Antonio Antonio ginocchia stai su le braccia Antonio fine della seconda ripresa bravissima un applauso dai dai vai 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 si fa buoni secondi buoni secondi tu con la guardia vai vai toni vai toni vai toni vai toni vai vai vicina entra 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 vai 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 toni è Antonio sei caduto non è successo niente dai Antonio Antonio dai su sulla guardia su la guardia dai dai vai toni vedi lo kick Antonio lo kick destro buono 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 su la guardia dai su, scuola le braccia, entra dai 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 l'ultima scarica Lì, Antonio! Vai con l'uovo! Sesso! Oh! Sulla quartia! Dai, vai, vai, vai! Vai! Dai! Dai tutto! Dai tutto all'ultimo! Vai che finisca Antonio! Sulla quartia! Dai, sulla quartia! Lì, c'è Antonio! Vai, vai, vesto! Stip! Oh! Bravo! Dai! Oh! Antonio è finita! Antonio! Antonio! Fine della terza è ripresa! Ho perso il tempo, ragazzi! Ho perso il tempo! il tempo! E' il tempo! Capisca! Il tempo! Tornare. C'è Vincent! Tornare! 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 un applauso vince ai punti l'angolo rosso